buonasera a tutti gli amici dal museo wunderkammer artificiale a roma e benvenuti alla 276esima puntata della serie gemme musicali a casa in questo episodio un animatore che non avevo ancora registrato e mi riferisco al grande Eitor Villalobos il più grande confusatore di musica classica brasiliana del novecento tra i vari pezzi di Villalobos ho scelto il primo volume della parole du bebé the baby's family che è dedicata a tutto alle bambole questa raccolta e vi andrò ad eseguire il brano che si chiama the little poor girl del ragdoll e il secondo pezzo invece pulcinella o anche pook che praticamente è un pezzo famosissimo perché era uno dei beers più famosi di Arthur Rubinstein un pezzo molto veloce e virtuosistico io vi auguro buon ascolto ci vediamo al prossimo appuntamento e vi ricordo il mio account www.infochiocciolamarcolomuscio.com per le denunzioni per aiutare il mio tempo di covid e sostenere queste numerose puntate buona saluta a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.